Un anno di attività da senatore della Repubblica e da presidente della sesta Commissione Permanente Finanze e Tesoro del Senato. Luciano D'Alfonso, parlando della sua attività questa mattina in conferenza stampa, ha rivendicato con orgoglio nell'ultimo anno le oltre mille ore di ascolto della cittadinanza, oltre alle tante iniziative di carattere politico, istituzionale e parlamentare portate avanti a Roma. Intanto perché ritengo che sia un principio di correttezza e di moralità a dimostrare in 12 mesi che cosa si è fatto. Ho misurato 1092 ore di ascolto della cittadinanza, mille iniziative istituzionali a favore di enti locali, imprenditori e cittadini addolorati in condizione di difficoltà. Ho messo in campo qualcosa come 37 interrogazioni a risposta scritta e 35 mi pare a risposta orale. Ho messo in campo 5 iniziative di disegni di legge delle quali iniziative 4 sono arrivate in porto votate integralmente da maggioranza e opposizione. Così come il lavoro fatto riguardante per esempio la linearità del lavoro nella fase del procedimento penale e nella fase anche processuale, l'obbligo della videoregistrazione, quando si sentono a sit, a sommare informazione, le persone informate sui fatti, finalmente la nostra iniziativa è calata nella legge delega di riforma del processo penale e fa obbligo di conservare memoria remota. E dirlo oggi in un giorno importante nel quale la procura di Pescara ha dimostrato capacità di giudizio, capacità di autonomia e capacità di automedicarsi perché davanti alla condotta scorretta di un contratualizzato dello Stato che rivela il segreto istruttorio, la procura procede velocemente in rinvia a giudizio. Non sono mancati anche i complimenti al comune di Pescara per aver ottenuto i fondi per lo svincolo di Colle Caprino, non così per i fondi per il porto e per l'allungamento dell'asse attrezzato arrivati a specificato D'Alfonso quando lui era presidente della regione e dunque ottenuti dalla giunta di centrosinistra. Allora io preciso, su Colle Caprino hanno seguito una giusta intuizione che aiuterà la città di Pescara a fare la città metropolitana, la città sistema urbano perché con lo svincolo di Colle Caprino 44 mila persone non troveranno a attraversare via di sotto per andare dall'altra parte della città, lo potranno fare con il raccordo anulare della circunvalazione. Bene ha fatto il sindaco di Pescara, la regione Abruzzo, l'ANAS a coordinare il valore di questo intervento che ho rivendicato più volte anch'io da ultimo con l'avvenuta della D dell'ANAS. Ma non devono fare abuso di assunzione di merito quando parlano delle risorse riguardanti il porto, delle risorse riguardanti l'asse attrezzato, le vasche di prima pioggia o il depuratore, sono tutte risorse lasciate in eredità da me anche con dossier tecnici avanzati e non ci devono provare neanche l'assessoruccio, quello che ha cambiato 11 partiti, non può assolutamente provare ad intestarsi questi meriti perché anche rispetto all'asse attrezzato io sarò il controllore rigorosissimo di che fine fanno le economie che si sta pensando di destinare alla demolizione della trombetta perché lì vedranno una parte di me che solo alcuni hanno conosciuto, io lì userò gli strumenti del diritto per evitare che si faccia donazione con quelle risorse.